L'ex ospedale di Trani, ora presidio territoriale d'assistenza San Nicola Pellegrino, presto potrebbe chiudere definitivamente i battenti per la trasformazione in una RSA per anziani. Questa prospettiva ha portato alcuni operatori sanitari del PTA a denunciare pubblicamente la situazione e il centro-destra sulle barricate, tanto da chiedere la convocazione della direttrice generale della ASLBAT in Consiglio Comunale. La richiesta questa negata e proprio sul punto si è acceso un duro scontro tra l'opposizione e il presidente del Consiglio Comunale tranese. Hanno accusato il centro-sinistra di aver negato la convocazione del Consiglio Comunale, niente di più falso, in quanto il regolamento dice una cosa molto semplice, dalla richiesta si hanno 20 giorni per poter fare il Consiglio Comunale. La richiesta è pervenuta il 22 marzo, l'idea era di farlo lotto e quindi di dare subito seguito a quanto richiesto ai consiglieri. Ahimè, uno dei interlocutori principali sarebbe avuto meno e quindi abbiamo ritenuto di doverlo rinviare alla presenza sia del sindaco che quanto meno della dottoressa Di Matteo. La cosa mi dispiace perché di fronte a un problema del genere che sta sottoponendo a grandi sacrifici tutta la popolazione tranese, ritengo che chiunque si dovesse poi liberare. Se l'ufficio di presidenza era disposto a inserire nel primo Consiglio Comunale utile il punto richiesto dalle forze dell'opposizione e quindi l'8 aprile, la stessa disponibilità non l'hanno dato i vertici del partito e i soggetti nominati a seguire e a dirigere le asle territoriali. Abbiamo la necessità di sapere qual è il futuro del PTA di Trani, perché la sanità è pubblica, la sanità viene pagata dai cittadini tranesi come dai cittadini andriesi, ballettani e via discorrendo, quindi se si pongono dei quesiti a questi vanno date delle risposte in modo urgente e non in 20 giorni, 30 giorni.